Dalla scuola dell'infanzia alle superiori sono 32 istituti coinvolti in 15 percorsi di formazione che riguarderanno non soltanto la recitazione ma anche i mestieri del palco e della scena. Il progetto che prevede i laboratori di formazione teatrale e cinematografica per gli studenti delle scuole cittadine si chiama Teatro e Cinema, che classe? Ed è promosso e finanziato dal Comune di Napoli per l'anno scolastico 2024-2025. Capacità progettuale dei soggetti che hanno aderito al bando, quindi si parlerà di costituzione, di legalità, di educazione al teatro, al cinema i mestieri del cinema, del teatro, per fare in modo che le giovani generazioni possano essere avvicinate a queste arti. È molto difficile avvicinare i giovani attraverso la mia persona al teatro e al cinema. I giovani stanno vivendo un momento veramente terribile e quindi bisogna aiutarli esattamente con operazioni di questo genere nel senso che hanno bisogno magari di frequentare laboratori, di appassionarsi molto al teatro, al cinema, di viverlo anche da dietro quindi di vedere quanti ruoli e quanti mestieri potrebbero fare.